scubi ha una storia molto particolare ascoltatela un po' scubi è un cane di 10 anni è un mix mare in mano è stato salvato dalla perrera di siviglia due anni fa lui è arrivato qua in cerca di una famiglia per sempre è adatto a qualsiasi tipo di famiglie qualsiasi tipo di richiesta venite a conoscerlo al pet rescue che mai potremmo perderci e più ti guardo e più vedo la parte migliore di noi ma ormai non serve illuderci non c'è bisogno di fingerci forti ed in fondo lo sai le nostre anime di notte telefonate al rifugio al numero 346 68 56 947 oppure scrivete a porta mia casa chiocciola dalla parte degli animali punto it